allora abbiamo superato la sbarra stiamo andando su verso le antenne qui c'è molto accumulo un po' di più sta facendo due fiocchi fisso i ciclisti sotto la neve ancora ciclisti sotto la neve continuando a fare due fiocchi secco e ai lati della strada c'è ancora un po' di accumulo però la strada fa schifo è piena di buca piena zeppa di buca non si può camminare a monte cavo sta nevicando però qui stiamo alti stiamo oltre i 600 700 metri piccoli piccoli fina però sta facendo secco sta nevicando ancora poco poco ma sta nevicando ancora che fisso è il momento che gli indianco gli indianco gli indianco gli indianco. Grazie a tutti.